Gian Cristofo Angelini, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Dio Figiale, sarebbe candidato per l'elezione a bene in Porto Viettio. Avete avuto discussione con tu, come risultante, o Giorgio Melo, prima di estonante, e dopo, perché queste discussione? A noi ho capito che l'affare puoi estonare, è estonato d'altrondi, ma ripeto, e sono capacità di dirla pubblicamente, e io non si tratta mica di una omanda da una parte, ma da parte di Giorgio Melo, che a Borsudo, a un momento dato, inizia una discussione, e oggi sono entrato di mo' fiato, e a Borsudo parla di la bene di Porto Viettio, con Michele Geraschi, che mi ha accompagnato, ed altri. L'affare affiascato per via i guello che l'ha iniziato, un cibo su non da, ma, dico pubblicamente, con un amico regretto, incontro a vato di aver contribuito e di aver risposto a questa domanda, per parla di la bene, anche buoni differenze politiche e di progetto sono portanto assai. Allora, a Zabed, un sarebbe mica ozolo nazionalistico, a parte ci sarà deno Don Matteo Santini, a Zabed è che se è buon fa den mica l'unione, vorse con Don Matteo Santini, sarà difficile per boi i vince. Penso che quando gli Don Matteo Santini sei portato candidato, era un nebbica, un vero giro, da una parte, sa bugiata dell'unione di Corriere, e si sa odia perché, e a tempo si idea che io, intanto che con se segundi io, un sarebbe forse mica candidato. Un mese, due o tre, dopo, un c'è mica unione con Giorgio Mila, par via di questo vato, e a tempo c'è una volontà personale e politica di vala e desse candidato di selezione. Dunque, penso che il barretto, per forse o luo a, ma in tutti i casi accetto e il rispetto e l'interesse assai a candidato di Don Matteo e d'altro, ma penso che l'unione a parlare di unione, a prima o secondo d'ordine, ma l'unione a parlare di un importantissimo, mica per Don Matteo permet, ma per l'insieme di Borti Vitiac. Sarebbe candidato in Borti Vitiac per la quattro e l'altra, a qua aveva GTC in mano, di nuovo, ho debuto dato di Polandri Colombani di un Gercondo, per poi di forse a qua o mai. Il problema non è mica un modestino personale, il problema della bene di Borti Vitiac. E io penso che non si può mica continuare così, con le stesse gente, le stesse idee e soprattutto le stesse vati. C'è la cambia. E non c'è mica cambia come un nazionalista o come una persona che si è più marcata politicamente. e c'è la cambia con tutti i duelli che vogliono fare il cambiamento. Dio mo' barè, dio mo' brudietto e adio accorre di Valogampà da qui a marzo. Ringraziamoci, Cristofan. Sono io che vi ringrazio.